Nessuna parola di Dio pubblicata, scritta da una donna rimarrà inefficace. Nessuna parola. Dice la parola del Signore in annuncio della nascita di Gesù Cristo. Il Signore parla oggi alle donne. Nessuna parola che tu scriverai o leggerai nelle vie digitali non rimarrà inefficace. Oggi parlo perché ho sentito queste parole nel discorso di una donna che ha pubblicato un messaggio su YouTube. Per questo parlo oggi e nello stesso tempo rispondo anche a colui che serve ad altre idee con la parola di Dio. Colui che mi ha parlato oggi, colui che mi ha fermato a parlare oggi. Come ho parlato anche ieri. Attenzione, dice la parola del Signore. Nel capitolo annuncio della nascita di Gesù Cristo, al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazareth. A una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. Attenzione donne alla lettura. Attenzione a ciò che leggo. In quanto il Signore ci dice oggi, nessuna parola di Dio non mia che commento io. Attenzione, io porto la testimonianza, ma attenzione alle parole di Dio che leggo. Io oggi ho avuto la risposta dal messaggio di una donna su YouTube che ha parlato tantissimo e ha letto pochissimo. Ma in questo poco che ha letto il Signore ha parlato, ha dato pane e bere per chi ascolterà questo messaggio. Attenzione che la parola di Dio nel gergo biblico trasmette messaggi alla mente, alla mente di colui che ascolta. Attenzione, messaggi personali, personalizzati. Attenzione, e dice, e quando l'angelo fu entrato da lei disse, ti saluto o favorita dalla grazia. Il Signore è con te. Attenzione alla lettura. Quando una bocca, semplicemente una bocca, legge o sente, possiamo trovarci faccia a faccia con Gesù. Come la samaritana incontrò Gesù che non sapeva chi avesse davanti, così noi alla lettura, attenzione, possiamo trovarci proprio con Gesù che parla al nostro cuore. Colui che ti parla sono io. Attenzione. Il Signore è con te. Solo questo versetto può dire a una donna che il Signore è con lei quando tutto il mondo è contro. Quando nelle avversità, nei conflitti con altre persone, con altri popoli, con altri colleghi di lavoro, se il Signore ci risponderà, ci dirà così, lo troveremo davanti alla lettura per via digitale pubblicato proprio da una donna. Il Signore è con te. Quando il nostro cuore riceve questo messaggio, quando ci troviamo con Gesù faccia a faccia, che ti dice il Signore è con te, non ci deve toccare, importare di ciò che dice un mondo intero, quando il Signore è con noi. Attenzione. Ed è là, attenzione, fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volessi dire un tale saluto. No? L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e lì porrai nome Gesù. Attenzione. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo, come avverrà questo dal momento che non conosco l'uomo? Attenzione. Anche questo versetto, come avverrà dal momento che non conosco l'uomo? Una donna che sente, Dio sa, Dio sa cosa vuole comunicare a lei. Dal momento che non conosco l'uomo, come posso avere oggi figli? Magari sei di un'età molto avanzata e questa parola non può dire nulla. Invece sì. Invece sì. Il Signore cerca figli. Il Signore cerca figli. Ma attenzione. Chi può far nascere figli se non le donne? Fili spirituali, attenzione. Chi se non le donne? Attenzione. Con tutta la loro sensibilità, bellezza di un cuore di donna. Che parla. Che gesticola. Che fa di tutto. Per avere figli. La donna. La donna in quel versetto di Genesi. Il Signore spiega che la donna è destinata ad avere figli. Ed oggi non possiamo. Non possiamo dire che se abbiamo finito di partorire figli dal corpo, con il corpo umano. Non possiamo pensare che è finito tutto. La donna rimane nel suo denià. Un essere umano che cerca figli. Che vuole figli. È stata destinata così la donna. Se lo trovo. Vorrei leggerlo dalla creazione. Dalla creazione la donna. disse alla donna disse io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza sempre sarai in gravidanza nelle dolie della gravidanza sempre con dolore partorirai figli sempre se noi crediamo che dal punto di vista anatomico le donne hanno finito hanno finito anche di lavorare in pensione se noi crediamo che la parola di Dio non è vita è solo spirito ma non è vita non crediamo in Dio non abbiamo conosciuto Dio la donna che scopo ha una donna a pubblicare la parola di Dio a leggere la parola di Dio se non quello di moltiplicare di moltiplicarsi grandemente io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza con dolore partorirai figli i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te certo che dominerà su di noi ma noi abbiamo questa vita davanti a Cristo quella di moltiplicarsi ed avere figli la donna oggi mai come oggi è chiamata a moltiplicarsi attenzione la parola di Dio è spirito è vita dare vita significa dare vita vivere il Vangelo non possiamo pensare che è finito il nostro percorso di partorire figli di realizzare comprare una casa non possiamo non possiamo andare avanti e pensare che se ho finito la casa di pagare il mutuo di pagare il mutuo se ho finito di partorire figli una donna in menopausa se ho finito di lavorare non possiamo pensare andare in chiesa oppure aprire una chiesa e non non contribuire all'opera di Dio non possiamo non possiamo pensare che è finita la vita così Maria disse all'angelo come avverrà questo dal momento che non conosco uomo certo che avverrà donna certo che avverrà donna certo dal momento che non conosci uomo che non vai dal punto di vista dei bisogni umani che non vai con un uomo non puoi pensare che tu non avrai più figli dal momento che non conosci un uomo l'angelo le rispose lo spirito santo verrà su di te e la potenza dell'altissimo ti coprirà dell'ombra sua è lo spirito di Dio la parola di Dio è spirito e verità e tu pubblicando parola di Dio leggere la parola di Dio tu darai porterai alla luce figli uomini anche uomini attenzione c'è quel testo che non ho segnato la donna si è sottomessa al marito come il marito è sottomessa alla chiesa prima fu concepito Adamo e poi Eva ma poi il versetto andando avanti ma anche Adamo usci da una donna facciamo donne attraverso la lettura e la scrittura della parola di Dio facciamo venire alla luce figli di Dio Adamo attenzione è molto importante la parola di Dio oggi e lo spirito santo verrà su di te la potenza dell'altissimo ti coprirà dell'ombra sua perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo figlio di Dio ecco Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchia e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile era chiamata sterile con lo spirito santo si può anche oggi nascere figli Maria disse ecco io sono la serva del Signore mi sia fatto secondo la tua parola e qui mi parlo il Signore mi sia fatto secondo la tua parola e sono arrivata allo scopo per il quale una donna parte in missione è pubblica messaggi scritti o parlati e pubblica e ci lavora e va davanti va avanti e si pone anche davanti a quei figli che non ascoltano ma solo lo Spirito Santo li porterà sentendo la parola di Dio sarà fatto secondo la parola di Dio e non secondo il nostro potere attenzione io sono davanti a figli che non ascoltano figli ribelli li li chiama il Signore oggi perché il Signore mi parlo questi giorni riguardo dei figli ribelli no se un uomo ha un figlio caparbio e ribelle che non obbidisce alla voce di suo padre né di sua madre e che non dà loro retta neppure dopo che l'hanno castigato suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della sua città alla porta della località dove abita e diranno agli anziani della sua città questo nostro figlio questo nostro figlio è caparbio e ribelle non vuole obbedire alla nostra voce e senza freno e ubriacone allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno a morte così toglierai via di mezzo a te il male e tutto l'Israele lo saprà e temerà attenzione è ciò che la parola di Dio mi disse di fare nel messaggio che ho pubblicato ieri non è facile avere figli spirituali è una lotta ma attenzione questa lotta senza la parola di Dio senza la lettura senza il potere di Dio che ha proprio esercita Dio questo potere proprio attraverso la lettura non si può fare nulla attenzione ho visto tanti tanti messaggi di donne italiane in quanto da noi e molto di meno la donna non ha ancora realizzato una chiesa la donna pastore io non l'ho conosciuta sinceramente in tutte queste vie digitali io la donna pastore non l'ho conosciuta nel mio paese ma quando il Signore mi parlò nel 2020 prendi un bastone e dividilo in due e scrivi su uno il nome del tuo paese e sull'altro nome e scrivi il paese dove vivi io in quel momento la mia vita si divide tra questi due paesi e porto messaggi per un paese il paese della mia nazionalità e porto messaggi per il paese dove abito e attenzione che sono molto differenti in quanto l'ottica di un paese è molto diversa dall'altro e lo stesso messaggio di Dio è differente la visione di Dio prende prende messaggi differenti attenzione lo stesso citato della Bibbia e ho visto ho visto nel paese dove vivo quindi la lingua che parlo le donne che hanno già le chiese sono ministri hanno le loro chiese e io ad oggi voglio portare il messaggio da parte di Dio questo messaggio di saluto ti saluto ti saluto o favorita dalla grazia sei favorita dalla grazia se hai in piedi questa attività no di servire al Signore ma attenzione alla parola di Dio poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace avrai figli se leggerai leggerai la parola di Dio leggiti più si parla tantissimo le nostre parole stamattina ripeto ho ascoltato il messaggio di una donna rumena su Youtube no e il messaggio non so se ha un tempo di un'ora ma in quel ora non le sue parole che raccontavano la sua vita non mi hanno dato nulla se non solo questi versetti poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace e la risposta di Maria sia fatto secondo la tua parola la tua chiesa sia fatto tutto secondo la parola di Dio non si farà nulla non nasceranno figli di Dio se non attraverso la lettura e la scrittura di parola di Dio attenzione è certo che il Signore è sempre l'altro ieri per cui ho fatto per ieri un messaggio molto potente ieri sera ero sfinita ma la mano forte di Dio era su di me e il Signore la parola di Dio è spirito e vita la mano di Dio era forte era forte era così forte il Signore il Signore mi parlò l'altro ieri in questo testo quando leggo certi testi non è facile per me perché so cosa mi aspetta la sede delle città quando ti avvicinerai a una città per attaccarla le offrirai prima la pace no se acconsente alla pace e ti apri le sue porte tutto il popolo che vi si troverà ti sarà tributario e soggetto quando ti avvicini con la pace è certo pubblichi lì un messaggio dolce d'amore no dei post con dei bei colori con la natura con dei bei messaggi di saluto di amore no di pace attenzione che il Signore ha una mente talmente profonda che non sai nemmeno dove ti porta perché è così il Signore ma se essa non vuole far pace con te e ti vuole fare guerra allora la sedierai il Signore la mano forte di Dio assedi anche oggi attraverso bocche e quando il Signore il tuo Dio l'avrà data nelle tue mani ne passerai fil di spada a tutti gli uomini ma le donne i bambini il bestiame e tutto ciò che sarà nella città tutto il suo bottino li prenderai come tua preda lo scopo l'incarico del messaggero di Dio di colui che è mandato in missione a un altro tipo di bottino non come le case di bottino di cui ho parlato ieri che focalizzano il guadagno di soldi no anche il Signore la sua casa di bottino vuole persone vuole anime no e certo che ma le donne i bambini il bestiame tutto ciò sarà nella città che sarà nella città tutto il suo bottino li prenderai come tua preda il Signore oggi chiama le donne chiama anche i bambini io ho visto nel mio paese se non mi sbaglio o era italiano bambini che predicano ma sì anche in italiano bambini donne specialmente donne e bambine minorenne no con la Bibbia in mano a leggere pensone e così farai per tutte le città che sono molto lontane da te che non sono città di queste nazioni perché il Signore non guarda la nazione il Signore ti manda dove vuole quando decide vai a Malta vai manda un messaggio all'isola di Malta vai a Roma solo a Roma vai al sud dove ti sbranano perché ogni popolazione ha il suo spirito no e ma nelle città di questi popoli che il Signore il tuo Dio ti dà come eredità non conserverai in vita nulla nulla che respiri ma voterai a completo sterminio gli ititi gli amorei i cananei i feresei gli invei i jebusei come il Signore il tuo Dio ti ha comandato di fare affinché essi non vi insegnino a imitare tutte le pratiche abominevoli che fanno per il loro dei e voi non pecchiate contro il Signore Dio vostro ma certo ciò che ho parlato ieri la casa di Bottino signori miei sono sono nati tanti popoli io ho visto tanti popoli che non è la parola di Dio tanti popoli che si propongono come risoluzione come salvezza delle anime delle persone ma non è la parola di Dio la parola di Dio è spirito di Dio nella vita della persona tutti gli altri popoli sono popoli che si offrono la salvezza ma non è lo spirito forte di Dio attenzione e certo che stamattina la forza il potere per rimanere in piedi e il richiamo a ciò a cui siamo state chiamate in causa noi donne tutto il capitolo in Deuteronomio 6 7 8 9 il Signore ci chiama a rileggere a ciò che è chiamato in causa il servo di Dio non che siamo giuste donne non che siamo noi giuste il Signore non digna ad uno sguardo chi si crede saggio non siamo chiamate a dimostrare che siamo di una capacità di una posizione più alta una delle altre no il Signore dice non è dunque per la tua giustizia che il Signore il tuo Dio ti dà il possesso di questo buon paese perché sei un popolo dal collo duro ma certo ma certo non è per la nostra giustizia ricordati non dimenticare come hai provato all'ira il Signore il tuo Dio nel deserto prima come diceva la donna del messaggio di stamattina prima di essere mandata una donna nella missione di Dio attenzione è stata nel deserto portata nel deserto dal giorno che uscisti dal paese di Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo siete stati ribelli al Signore il Signore ci ricorda sempre ci ricorderà sempre chi siamo e dice il Signore questi sono i comandamenti le leggi e le prescrizioni che il Signore il vostro Dio ha ordinato di insegnarvi perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi preparate a entrare per prendere possesso così che tu tema il tuo Dio e il Signore osservando tutti i giorni della tua vita tu attenzione donna tuo figlio è il figlio di tuo figlio tutte le sue leggi e tutti i suoi comandamenti che io ti do affinché tutti i giorni siano prolungati fa nascere l'uomo i figli donna tuo figlio è il figlio di tuo figlio le leggi sono la parola di Dio non i pensieri della nostra mente noi siamo persone dal collo duro il Signore stamattina mi ha detto tu sei tu sei un popolo dal collo duro tu sei un popolo dal collo duro noi vogliamo fare ciò che vogliamo noi quante cose vorremmo dire noi che sono dal nostro pensiero per farci giustizia ma noi sottomettiamo il nostro pensiero al pensiero di Cristo per avere figlio altrimenti no altrimenti no se facciamo ciò che vogliamo altrimenti no ascoltali dunque Israele e abbi cura di metterli in pratica affinché venga a te del bene e vi moltipliciate grandemente nel paese dove scorrono il latte e il miele come il Signore il Dio dei tuoi padri ti ha dato ci saranno questo popolo di Dio attraverso la via digitale certo che si moltiplicierà tantissimo ma il Signore ascolta Israele il Signore il nostro Dio è l'unico Signore non possiamo metterci noi e dimostrare la nostra intelligenza la nostra scienza i nostri pensieri la nostra capacità guarda cosa sono in grado di fare guarda cosa posso fare io non ci moltiplicheremo se pensiamo così non ci moltiplicheremo i figli saranno quelli quei figli che nasceranno secondo la parola di Dio ecco io sono la serva del Signore mi sia fatto secondo la tua parola mi sia fatto che io parli secondo la parola non secondo i miei pensieri e ci darà il Signore questo paese questa chiesa online questa chiesa digitale dove sul trono sarà la parola di Dio attenzione e la donna potrà scrivere parlare la parola di Dio questi comandamenti tu amerai il Signore dunque il Signore il tuo Dio con tutto il cuore con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore li inculcherai ai tuoi figli ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua quando sarai per via quando ti coriccherai e quando ti alzerai ovunque tu andrai quando tu donna parlerai da casa tua nella chiesa digitale dove tutti si collegano oppure quando parlerai nei campi quando ognuno viene comunque che parla ovunque si trova per via andando per via che fa un messaggio che trasmette un messaggio il Signore ricorda questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore ciò che parlo oggi donna te li legherai alla mano come un segno te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città quando il Signore il tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che giuro ai tuoi padri Abramo Isacco e Giacobbe di darti quando ti avrà condotto alle grandi e belle città che non hai edificate alle case piene di ogni bene che non hai accumulato alle cisterne che non hai scavate alle vigne agli olivetti che non hai piantati quando mangerai sarai satio guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto dalla casa di schiavitù sì possiamo trovarci con grande prosperità una casa digitale grande con tanti popoli che si rivolgono ci ascoltano ma il Signore è molto facile dimenticare la parola di Dio i comandamenti di Dio temerai il Signore il tuo Dio lo servirai e giurirai nel suo nome non seguirete altri dei presi fra gli dei degli altri popoli intorno a voi perché il tuo Dio il Signore che sta in mezzo a te è un Dio geloso attenzione qua che possiamo copiarci l'uno dell'altro io se vedo una donna che ha una chiesa digitale io copio no 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 seguite i comandamenti di Dio passo per passo se ho fatto ieri un video che l'ho trasmesso io ho letto il messaggio di Dio la bocca di Dio che mi ha mandato attenzione non parlo oggi alle donne perché ho deciso di parlare alle donne attenzione quando noi ci alziamo al mattino no la prima cosa pensiamo cosa farò oggi no per il mio Signore che è il mio capo no noi consultiamo il Signore attenzione consultiamo il Signore non seguirete altri dei ho detto perché il Signore è geloso no l'ira del Signore tuo Dio si accenderebbe contro di te e ti farebbe scomparire dalla terra non temerete il Signore non tenterete il Signore il vostro Dio come lo tentaste a massa osserverete diligentemente i comandamenti del Signore il vostro Dio le sue istruzioni le sue leggi che vi ha date farai ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore affinché venga a te del bene ed entri in possesso del buon paese che il Signore giurò ai tuoi padri di darti non è un caso donna che hai questa forza questo coraggio di parlare non è non è un caso il Signore giurò ai tuoi padri è tutto è tutto realizzato dalla mente di Dio prima dopo che Elia avrà scacciato tutti i tuoi nemici davanti a te come il Signore ha promesso mi scaccerà il Signore con la sua forza tutte queste case digitali che vogliono attirare le donne le nostre donne attenzione tutte le donne sono le nostre donne il cuore di donna non può non sentire come un altro cuore di donna quando in avvenire tuo figlio ti domanderà che significano queste istruzioni queste leggi queste prescrizioni che il Signore il nostro Dio vi ha date tu risponderai a tuo figlio eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente eravamo schiavi donne donne di una certa età sicuramente sei stata schiava in qualche casa di Dio schiava degli uomini in Egitto e a vedere le ricchezze di quelle case e la sottomissione della donna se tu hai una casa digitale donna vuol dire che sei stata schiava di qualcuno e hai voluto liberarti ma attenzione che se ti sei liberata non è per la tua forza è il Signore è il Signore che ha fatto queste cose per raccontare a tuo figlio che eri schiavo attenzione se sono qui seduta a parlare ho pianto per mesi ho sofferto per mesi ovunque entrava mi entravo l'uomo 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 dall'altare mi sottometteva mi chiamava già sua donna attenzione ero già la sua donna attenzione attenzione ho pianto sono uscita da un posto dove dall'altare ero già la donna nel suo cuore ero già la sua donna e non sei più libero esci piangendo attenzione sono uscita ma io ho letto una frase detta proprio da una donna uscirai da questo posto e di ciò che vuoi scappare troverai nell'altro infatti sono entrata in un'altra chiesa dove dall'altare l'uomo ha realizzato una predica dove all'improvviso non era più un prete ma era un profeta che vedeva in me la donna sposata con il marito a casa vedeva la sua futura donna moglie lui essendo vedo e sono uscita anche di lì però attenzione che il signore fa accadere queste cose per raccontare ai figli perché noi parliamo oggi perché siamo qui sole con donne perché ma il signore oggi chiama le donne anche ad avere figli attenzione la parola di Dio parla anche ai figli se la nostra bocca segue le istruzioni di Dio che il signore ci dà i piani sono di Dio non sono nostri non è un caso che siamo sole da casa nostra o dal nostro giardino o dal nostro posto di lavoro no non è un caso il signore cerca figli e figli il signore operò sotto i nostri occhi miracoli e prodigi grandi e disastrosi contro l'Egitto contro i faraoni contro tutta la sua casa e ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di darci il signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi e di temere il signore il nostro Dio affinché venisse a noi del bene sempre ed Egli ci conservasse in vita come ha fatto finora questo sarà la nostra giustizia l'aver cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti davanti al signore il nostro Dio come ci ha ordinato è certo che poi segue il capitolo 7 per chi è interessato e 8 come il signore anche 9 come il signore ci ci spiega come comportarci quando il signore il tuo Dio ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in possesso e avrai scacciato molti popoli perché dove ci sono tante case di bottino realizzate per guadagno ma il signore ci chiama attenzione avrai scacciato molti popoli donna leggendo gli titi i girgassei gli amorei i cananei i ferisei i vei i gebussei i sette popoli più grandi più potenti di te certo è in grado Dio di fare questa donna e mettere una bocca di queste cose e di mettere una donna davanti a popoli così grandi quando il signore il tuo Dio li avrà dati in potere il tuo potere e tu li avrai sconfitti tu li vuoterai allo stermino non farai alleanza con loro e non farai loro grazia non è facile comunque non è facile ciò che il signore mette come compito a una donna non è facile tutto per avere figli non ti imparenterai con loro non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli perché distolirebbero da me i tuoi figli che servirebbero dei stranieri e l'ira del signore si accenderebbe contro di voi e li ben presto vi distruggerebbe invece farete loro così demolirete i loro altari spezzerete le loro statue abbatterete i loro idoli di Astarte e darete alle fiamme le loro immagini scolpite il signore mi mi ha portato in una casa una casa dove si parlano parole che arrivano dal pensiero umano e quando mi sono ribellata casa digitale mi sono ribellata mi hanno cacciato via mi hanno bloccata da questo canale infatti cosa voglio dire ho cercato di demolire i loro altari ho contestato spezzerete le loro statue ho contestato spezzato le loro idee ho abbattuto i loro idoli di Astarte che sono tanti libri dei saggi che li portano queste vie digitali che chiamano vieni tu donna a realizzare la tua vita che io ti aiuterò no certo che loro fanno copia in colla da google e ti portano idee visioni pensieri di uomini saggi il signore le chiama idoli di Astarte e darete alle fiamme le loro immagini scolpite infatti parlo tanto contro le parole dei saggi che si riportano anche dalla casa di Israele ho visto un grande pastore italiano a questi giorni a combattere contro questi idoli di Astarte che sono libri dei saggi che passano si muovono tra i fedeli attenzione sono altari da demolire sono altari da demolire infatti tu sei un popolo consacrato al signore il tuo dio il signore il tuo dio ti ha scelto per essere il tuo il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra il signore si è affezionato a voi vi ha scelti dice il signore non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli anzi siete meno numerosi di altro di un altro popolo dice il signore ma perché il signore vi ama vi ha scelti vi ama il signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha liberati dalla casa di schiavitù dalla mano del faraone il re d'egitto perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri ecco perché il signore mi ha tirato via anche da questa casa digitale coach professionali che dicono vieni da me a realizzare la tua vita il signore la mano potente di dio fa uscire il popolo di dio dall'egitto certo il signore fa passare prima di mandare in missione una donna la fa passare il deserto è così e lì dunque ti ha umiliato ti ha fatto provare la fame poi ti ha nutrito di manna ti ha fatto provare la fame ti ha umiliato io sono uscita da tante chiese e sono finita anche nei canali digitali di una casa digitale di un coach professionale che ti chiama perché è molto facile quando si vive nel deserto lontano da un gruppo forte di persone che ti sostengano che ti aiutino è molto facile cadere dei predatori e lì dunque ti ha umiliato ti ha fatto provare la fame poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca di Dio dalla bocca del Signore i miei padri non hanno mai letto non mi hanno mai letto il pane di Dio la manna che viene dal cielo no e certo che ad oggi il Signore il Signore presenta questo capitolo in Apocalisse dove la donna adesso è esittita perché si vede come lei si è liberata dalla schiavitù passata e la donna oggi parla comunque la donna il dragone poi un grande segno apparve nel cielo una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo era incinta e gridava per le dolie il travaglio del parto la donna vuole partorire figli per questo le donne stamattina proprio pensavo eh chi me lo fa fare a che scopo non ho potere eppure la donna grida fino alla morte grida le dolie del parto vuole partorire figli è così figli spirituali figli della sua visione della sua missione che ha sulla terra attenzione era incinta e gridava per le dolie il travaglio del parto apparve ancora un altro segno nel cielo ed è come un gran dragone rosso che aveva sette teste i dieci corna e sulle sette teste diademi sono tutti i popoli quei popoli no popoli di diverse mentalità di diversi modi di attirare la gente dieci corna e sulle teste sette diademi loro si presentano forti potenti che aveva sette teste dieci corna e sulle teste sette diademi la sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scalò sulla terra il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorarne il figlio non appena lo avesse partorito e della partorì un figlio maschio il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro e il figlio di lei fu rapito vicino a dio e al suo trono ma la donna fuggì nel deserto dove ha un luogo preparato da dio per essersi esservi nutrita per 1260 giorni la donna per poter attenzione deve essere nutrita deve passare il deserto per poter andare in missione no e della partorì un figlio maschio sono le donne che partoriscono grandi uomini attenzione grandi uomini sì la donna si è sottomessa all'uomo perché prima fu concepito Adamo e poi Eva ma attenzione che poi da Eva è nato un Adamo da Eva nascono maschi attenzione e alla fine sì io signore mi parlo mi parlo stamattina di queste case digitali di questi popoli tanti popoli no i vei i cananei ma i titi amorei i cananei i feresei i vei i jebussei no che comunque loro sono abbastanza preparati e il signore mi ha parlato stamattina in questo capitolo di Ose ascoltate questo sacerdote state attenti voi della casa di Israele porgete l'orecchio voi della casa del re attenzione sono sempre due case sacerdoti la casa di Israele e la casa del re attenzione sono tanti re ha detto ha detto il signore mi ha detto si sono costituiti dei re senza il mio ordino sono tanti re si sono eletti dei principi a mia insaputa si sono fatti con il loro argento e oro degli idoli destinati a essere distrutti attenzione che è difficile il signore mi ha portato nella casa di questi re costituiti ai giorni d'oggi che attira una gran parte del mondo queste case digitali case di bottino che le chiamano il signore destinati a che hanno questo di scopo guadagnare soldi e il dragone si pose davanti alla donna certo che si mette davanti alle donne certo che si mette davanti alle donne e questo giudizio è contro di voi perché siete stati un laccio a mispa e una resa attesa sul tabor con i loro sacrifici rendono più profonde le loro infedeltà ma io li castigherò tutti attenzione gli uomini le persone donne e uomini non possono essere sacrifici di queste case perché in fondo sono sacrifici attenzione io conosco Efraim e Israele non mi è ignoto poiché ora o Efraim ti sei prostituito e Israele si è contaminato attenzione che queste case questi popoli contaminano la casa di Israele io testimonio che dalla casa di Israele dove sono uscita con grande sofferenza sono entrata in una casa di questi recostituiti di questi popoli e attenzione che loro lì in questa casa dei re costituiti da sé no io ho visto donne io ho visto donne che frequentano la casa di Dio di Israele lì in quelle in quelle case attenzione dove non si parla la parola di Dio ma si parla la parola dei saggi questi idoli di Astarte si riportano il saggio X dice questo versetto andiamo a vivere secondo questo questo citato andiamo a vivere secondo questo citato attenzione io ho visto donne della casa di Israele lì lì prese come laccio lì in quelle case attenzione io mi sono ribellata il Signore mi ha tirato fuori con mano forte ma quelle donne attenzione vanno in chiesa ma vanno anche su quei canali digitali contaminano la casa di Israele le loro azioni non permettono di tornare al loro Dio perché lo spirito di prostituzione è in loro e non conoscono il Signore e queste case di re ma l'orgoglio di Israele testimonia contro di lui Israele e Defraim cadranno per la loro malvagità e anche Giuta cadrà con loro attenzione è molto facile che si cada attenzione questi libri che si muovono di qua e di là tra i fedeli oppure questi canali digitali che portano i citati di saggi che sono uomini attenzione idoli di astatelli chiama il Signore attenzione che contaminano la casa di Israele andranno con le loro greggi e con le loro mandrie in cerca del Signore ma non lo troveranno e lì si è ritirato da loro poi queste donne e queste persone che frequentano queste case dei re case di bottino che hanno lo scopo il guadagno e che fanno dei loro seguaci for loro faranno dei sacrifici pagano i soldi seguono però attenzione che succede anche un'altra cosa loro cercheranno il Signore nel libro di Dio ma non lo troveranno hanno agito perfidamente perfidamente contro il Signore hanno generato figli bastardi ma ora basterà un mese a divorarli con i loro beni figli bastardi sono quelli figli nati da questi casi digitali che sono anti parola di Dio sono anti Cristo anti parola di Dio loro non temono Dio non promuovono la preghiera e temere Dio che è più alto dell'uomo no loro danno tutta la scienza del mondo nelle mani di una mente umana attenzione e suonati il corno a Ghibea e la tromba a Rama date l'allarme a Beta 20 sono alle spalle Beniamino Efraim sarà devastato nel giorno del castigo io annuncio fra le tribù di Israele una cosa certa i capi di Giuda sono come quelli che spostano i confini io riverserò la mia ira su di loro come acqua non bisogna accettare di vivere con il piede un piede nella casa di Dio e con il piede nelle case digitali dove l'uomo realizza e si attrae come giustamente nel dragone la sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e l'escalioso la terra attrae una terza parte attrae tantissima gente dalla loro parte attenzione e il signore dice Efraim ho preso schiacciato nel suo diritto perché ha seguito le prescrizioni che più gli piacevano a questa casa piacciono queste prescrizioni perché portano soldi mangiano da lì perciò io sono come una tignola per Efraim come un tarro per la casa di Giuda e il signore sceglie poi bocche che li seguono spirito più forte dell'uomo che fa fare all'uomo alla donna ciò che non farebbe di sua volontà di sua iniziativa di suo pensiero il signore lavora così il signore dice per questo li faccio a pezzi mediante i profeti li uccido con le parole della mia bocca e il mio giudizio verrà fuori come la luce il signore manda bocche attenzione è certo che poi loro si sentono oppressi schiacciati nel suo diritto io li ho visti in faccia io li ho visti schiacciati oppressi nel loro diritto secondo la loro mente secondo le prescrizioni che loro seguono che loro piacciono quando Efraim ha visto il suo male giù dalla sua piaga Efraim è andato verso l'assilio e ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse ma questi non potranno guarirvi né vi guarirà della vostra piaga attenzione che quando un re di questo tipo di casa che lavora in equip non è da solo come avevo detto ieri loro quando vedono certo che cadono anche loro davanti alla parola di Dio al potere di Dio certo che anche loro si mettono in discussione il loro potere il loro scopo per cui sono nati e certo che vanno poi tra di loro a discutere e dice Efraim è andato verso la Siria quelli più grandi no e ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse ma questi non potranno guarirvi né vi guarirà della vostra piaga se c'è una piaga loro non possono guarire attenzione non possono guarire una piaga perché io sarò come un leone per Efraim come un leoncello per la casa di Giuda io io strapperò me ne andrò li porterò via e non vi sarà chi li salvi io me ne andrò e tornerò al mio luogo dice il Signore finché essi non si riconoscano colpevoli e cerchino la mia faccia quando saranno nell'angoscia ricorreranno a me questo testo il Signore mi ha parlato tanti giorni fa no riguardo questa casa dei re costituiti per per guadagno no in case di bottino il Signore dice io me ne andrò li lascio poi ritorno ma come sei invisibile manda bocche manda bocche da loro io me ne andrò e tornerò al mio luogo finché essi non si riconoscano colpevoli e cerchino la mia faccia quando saranno nell'angoscia ricorreranno a me solo nell'angoscia se non si passa il deserto non si può non si può andare in una missione se non si passa il deserto e che ti farò Efraim o Efraim che ti farò oggi dalla vostra bontà è come una nuvola del mattino come la rugiada del mattino che presto scompare per questo io li faccio a pezzi mediante i profeti non c'è bontà non c'è bontà nelle loro case sembra è come una nuvola del mattino come la rugiada del mattino che presto scompare sembra in apparenza che sono bontà loro ti aiuterò a realizzare la tua vita è come una rugiada del mattino che presto scompare poiché io desidero bontà non sacrifici e la conoscenza di Dio più degli holocausti voi fate sacrifici sacrificate persone per soldi ma essi come Adamo hanno trasgredito il patto si sono comportati perfidamente verso di me Galahad è una città di malfattori e piena di tracce di sangue delle persone perché pagano e non guariscono quelle persone e non realizzano la loro vita quelle persone come una banda di briganti attende in agguato la gente così fa la congrega dei sacerdoti assassinano sulla via di Sichem commettono scegliereatezze nella casa di Israele ho visto cose orribili l'ansi è prostituito l'Israele si contamina a te pure o Giuda una metitura è assegnata quando io riconderò dall'esilio il mio popolo quindi il Signore è in azione il Signore è in azione non si possono costituire dei dei che non sono dei l'uomo dovrebbe farsi degli dei ma già essi non sono dei non può salire su un piedistallo costituirsi un re sopra una gregia una congregazione venite da me che vi assicuro la realizzazione della vostra vita e arricchimento e tutto ciò che loro offrono leggo solo questo e basta avvertimento contro le false dottrine ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia di rimandare a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro da una buona coscienza e da una fede sincera alcune hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso attenzione ai discorsi che noi facciamo non portano da nessuna parte vogliono essere dottori della legge ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto ma per gli iniqui e i ribelli per gli empi e i peccatori per i sacrileghi e gli irreligiosi per coloro che uccidono padre e madre per gli omicidi per i fornicatori per i sodomiti per i mercanti di schiavi per i bugiardi per gli spergiuri e per un'altra cosa contraria alla sana dottrina secondo il Vangelo della gloria del Beato Dio che mi è stato affidato attenzione che è molto facile scivolare in discorsi senza senso lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro da una buona coscienza e da una fede sincera non possiamo parlare ciò che vogliamo noi perché se parliamo ciò che vogliamo noi donne dal nostro pensiero e non leggiamo attenzione che ci troveremo con un messaggio nei commenti di questo genere la donna impara in silenzio con ogni sottomissione poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo ma stia in silenzio mentre se noi leggiamo e partiamo a questa lotta per la fede con la parola di Dio avremo figli altrimenti l'uomo ci risponderà molto facilmente quando lo spirito di Dio scopre agli uomini che sentono le nostre discussioni i nostri messaggi quando sentono che noi veniamo a insegnare qualcosa attenzione ma non è il comandamento di Dio il comando di Dio che ci manda a parlare attenzione loro molto facilmente come uomini che sono dotati hanno questo dono di grande capacità di dominare sulla donna loro loro sentono che noi quando noi facciamo un discorso dove insegniamo oppure facciamo un discorso perché siamo mandati attenzione l'incarico che sia molto chiaro l'incarico che il Signore ha assegnato a una donna non quello ha dato a una donna l'incarico che il Signore ha dato a una donna attenzione a ciò che è stata chiamata attenzione per questo scrive per questo mando questo messaggio donna scrivi e leggi perché se no il nostro discorso non ha nessun senso e per di più insegniamo e loro percepiscono gli uomini che noi insegniamo non vogliono gli uomini non possono non riescono ad apprendere da una donna ma la parola di Dio se noi facciamo mettere sul trono del nostro messaggio del nostro video del nostro messaggio scritto o letto se mettiamo la parola di Dio che è Dio allora loro non si sentiranno più che imparano che apprendono da una donna attenzione è molto importante è molto importante lo scopo per cui parliamo perché parli donna perché parli chiediti ogni giorno quando parli mi chiedo ogni giorno per questo parlo oggi perché parlo perché non me ne sto a fare la mia vita perché parlo è certo che il Signore mi ha risposto proprio attraverso il messaggio di una donna ecco io sono la serva del Signore mi sia fatto secondo la tua parola faccio servo Dio secondo la parola che mi manda a parlare ciò che devo parlare attenzione ti saluto o favorita dalla grazia il Signore è con te siamo se parliamo siamo favoriti dalla grazia di Dio attenzione poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace richiamo oggi l'attenzione alle donne di leggere e scrivere la parola di Dio perché ogni nostra parola sarebbe insegnare e non è consentito non è permesso lo dice la parola di Dio a Dio la gloria e la parola amén